Tragedia sfiorata la scorsa notte a Domodossola, intorno alle 2.40, un ragazzo CB, 18 anni di Macugnaga, è precipitato da una finestra di un appartamento in via Ferrer. Il ragazzo era a casa di amici a festeggiare la fine della scuola e per cause in corso di accertamento, probabilmente i posti della cena, nella notte è andato in bagno e ha aperto la finestra per prendere aria. In quel momento ha avuto un giramento di tessere, è caduto precipitando a terra e facendo un volo di quasi 10 metri. Tantissimo spavento, ma per fortuna il ragazzo è vivo e non avrebbe riportato lesioni gravi. Trasportato dal dea dell'ospedale San Biagio di Domodossola, risulta in osservazione, ma solo per precauzione. Al momento l'ipotesi di un incidente si escludono responsabilità di terzi. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, è intervenuto un equipaggio dell'aliquota radiomobile del comando stazione di Domodossola dei Carabinieri, che si trovavano già in zona per un controllo notturno, visto il forte afflusso di giovani in seguito alla chiusura delle scuole.